sei una guiatrice seriale professionista oppure semplicemente ti affascina la tecnica del feltro ad ago benissimo in entrambi i casi sei invitata a venire a partecipare al primo raduno del feltro ad ago italia 18 e 19 maggio saremo ospiti dell'evento dell'associazione sapere delle mani dedicata all'artigianato artistico e avremo uno spazio tutto per noi per incontrarci scambiarci delle idee e in più faremo un'opera di fiber art collettiva il feltro vittorico ispirata agli acquerelli di franco testa dove te l'ho detto a nazzano nella bellissima riserva che greffa ti aspetto per qualunque informazione scrivimi a info chiocciola ne arte ne parte punto net e oppure segui la mia pagina o segui la pagina dell'associazione sapere delle mani e saprai tutto grazie a tutti grazie a tutti